Nel 2023 il turismo in Italia ha recuperato e superato i livelli pre-covid del 2019 e i segnali per il nuovo anno sono particolarmente positivi. Quali possono essere però gli effetti di un eccesso di turismo? Ne parliamo con Ivana Jelenic, CEO di Enit, che è l'Agenzia per la Promozione Turistica. Benvenuta. Grazie mille. Allora, Enit, come ogni anno, ha fatto delle stime per i mesi che vanno da giugno a settembre. Le volevo chiedere, cosa emerge da questi dati? Cosa ci dobbiamo aspettare dalla prossima estate? Certamente che sarà di nuovo un'estate ricca, ricchissima per noi di turisti. Le sagre, i concerti, gli eventi sono per noi davvero un fiore all'occhiello. E attraggono sempre più visitatori che provengono da tutto il mondo. Quindi anche quest'anno avremo decisamente una stagione record. Dai dati emerge un forte incremento di sagre e feste di paese. Cos'è? Una nuova tendenza? Una riscoperta di un turismo delle tradizioni? Ma in realtà il nostro paese è sempre stato protagonista e pieno di questo tipo di manifestazione. Sono oltre 20.000 le sagre che si contano in Italia. Oltre 4.000 fra concerti ed eventi di vario tipo e genere. Questo non è per noi una novità, però è sempre più nell'interesse del turista, soprattutto straniero. Perché è qualcosa che ci caratterizza, ci rende unici, ci rende particolari. E fa sì che l'esperienza che il turista fa sia un'esperienza autentica, genuina, dove scopre non solo il territorio e le sue tradizioni, ma anche tanta fantastica enogastronomia. Guardando agli arrivi aeroportuali internazionali, gli Stati Uniti sono il nostro primo mercato di provenienza. Invece gli arrivi dalla Cina sono ancora bassi. I cinesi sembrano preferire mete a noi vicini, come per esempio la Francia. C'è un motivo per questa tendenza e Enit lavora per attrarre nuovi turisti asiatici? Ma certamente dopo una lunga pandemia e una ripartenza molto difficoltosa, soprattutto sul mercato cinese, si cominciano a vedere i primi segnali di un ritorno di numeri importanti da quel mercato. Storicamente preferiscono decisamente la Francia, la Svizzera, e noi ci stiamo impegnando molto in questa fase, proprio per scalare le classifiche e diventare un punto d'attrazione. Stiamo ancora aspettando anche che si ritorni al numero di voli che c'era prima della pandemia, ma questo chiaramente comporta una serie di fattori che non dipendono soltanto da noi, ma una serie di congiunzioni di mercato. Però monitoriamo con grande attenzione il mercato cinese. I numeri del turismo in crescita sono ovviamente un'ottima notizia per l'economia italiana, però quando i numeri sono troppi, quando i turisti sono troppi, possono creare anche disagio, per esempio per i residenti o anche per i beni del nostro paese. Secondo lei è giusto e corretto porre un limite? Ma da un lato chiaramente noi vogliamo avere sempre più turisti, e quindi competere con tutte le altre destinazioni internazionali, perché poi in realtà la competizione non è fra regioni, ma è fra paesi, e sempre di più addirittura anche fra blocchi più grandi. L'asiatico sceglie se rimanere in Asia, per esempio, o venire in Europa o in America. Chiaramente il numero per una destinazione come la nostra, che sì ha un'offerta estremamente variegata, ma allo stesso tempo ha un territorio e delle realtà fragili, che hanno bisogno di essere tutelate e protette, è sempre un grande tema. Io non sono favorevole ai restringimenti, e quindi a creare delle aree chiuse, o in qualche modo dare la sensazione che siamo un paese solo per alcuni. Però certamente sono fenomeni che andranno regolati nel prossimo futuro, e su questo l'intelligenza artificiale, secondo me, può dare un bel aiuto. Enit già usa l'intelligenza artificiale per fare previsioni, per prevedere flussi turistici? Assolutamente sì, già sono in corso le prime sperimentazioni e attività con le quali stiamo iniziando a interagire con l'intelligenza artificiale, ma siamo solo all'inizio, circa un 3-4% è al momento il volume di attività che viene fatto con l'intelligenza artificiale, e certamente nel prossimo futuro potremmo aumentare questa percentuale, proprio per sfruttarla ancora di più. Allora, vedremo poi se le previsioni verranno confermate, magari ne potremo parlare a fine estate per fare un bilancio, se vorrà. Speriamo di sì, speriamo di sì. Grazie e alla prossima. Grazie.